Il problema era stato segnalato lo scorso dicembre dall'architetto Marcello Maltese, residente della zona, candidato a sindaco di Trapani nelle amministrative del 2017 e oggi componente della nuova associazione Fronte Comune. In un post su Facebook Marcello Maltese si era soffermato sulla pericolosità di questa situazione, visto che lungo i corridoi laterali di Torre di Ligny ci passano ogni giorno tante persone, sollecitando quindi la messa in sicurezza e l'interdizione del lato diponente dove c'è stata la caduta di calcinacci dal cornicione di Torre di Ligny, il tutto comunicato anche via Pecca al Comune. Sono attivato il 14 dicembre, quindi più o meno un mese fa, perché abitando lì vicino spesso frequento la torre per fare delle foto, per fare delle passeggiate e vedi che c'era un bel pezzo del prospetto, un pezzo di un blocco di tufo che era caduto su questo corridoio perimetrale che tutti percorriamo arrivando alla Torre di Ligny. Ho subito contattato i vigili urbani e il Comune attraverso una Pecca, anche per lasciare una traccia ufficiale della comunicazione, dicendo di intervenire perché non solo e non tanto per riparare il problema alla facciata della torre, ma soprattutto per preservare da danni all'incolumità pubblica. Tanta gente va ed era molto pericolosa questa cosa. Però ho notato che forse il giorno dopo furono messe due transenne che provengono immediatamente da chiunque si avvicina alla torre, spostate e la gente continua ad andare a passeggiare attorno al monumento. Io stesso più di una volta ho ricordato a qualcuno che era lì dietro a fare le foto che era pericoloso perché erano caduti dei pezzi di prospetto. Ieri, facendo come sempre qualche foto in zona, ho notato che c'erano degli altri resti di caduta al suolo di pezzi del prospetto occidentale della torre. Probabilmente erano resti di un blocco un po' più grande che al contatto con il pavimento si è rotto in più frammenti. Però questa cosa che, nonostante sia passato un mese, non si è provveduto a impedire in maniera sostanziale il passaggio in questo luogo che è diventato pericoloso, mi stranizza un pochettino. Io ho avvisato a dicembre anche i vigili del fuoco attraverso una pecca perché credo che normalmente il passaggio da fare sia quello di avvisare loro che vanno a constatare quali pezzi si stanno distaccando dal prospetto, provvedono a togliere il pericolo imminente e poi fanno transennare. Normalmente dovrebbe funzionare così. Subito dopo la segnalazione di Maltese, il personale del comune di Trapane si è attivato per mettere le transenne che però sono state rimosse dai passanti. Questa mattina, secondo quanto fatto sapere dall'assessore ai lavori pubblici Dario Safina, è stato fatto un sopraluogo per decidere sul da farsi, non escludendo un intervento immediato per evitare altri cedimenti del cornicione. Safina ha poi chiamato in causa lo stanziamento di 120.000 euro per il rifacimento del prospetto centrale della torre, non escludendo un intervento anche nel lato di Ponente con le economie per i ribassi d'asta. Intanto però, come evidenziato da Marcello Maltese, bisogna mettere in sicurezza il corridoio interdicendo nel passaggio. La prima cosa è che si mettano in atto le condizioni per tutelare la salute pubblica, cioè impedire realmente l'accesso a questo corridoio perimetrale, perché è molto pericoloso in questo momento. Poi in seconda battuta, ma questo è ovvio, il mettere in sicurezza la facciata, il prospetto, probabilmente quello più danneggiato è proprio quello che guarda ad ovest, perché è quello più esposto alle intemperie nel corso dell'anno, e che vengono fatti poi non in tempi biblici a cui siamo abituati, ma secondo una tempistica ragionevole, i lavori per la normale manutenzione delle facciate della torre. Ma in primis viene la salute pubblica e quindi transennare in maniera corretta, impedire il passaggio al corridoio perimetrale e possibilmente avvisare anche la cittadinanza in qualche modo.